ciao ragazzi eccoci qui faccio vedere finalmente sono riuscita a girare un video sono tipo 3 giorni che volevo girare un video nella nostra vacanza solo che tipo lasciavo sempre il cellulare a caricare lo scarica per via dei video dei gattoni ecco qua eccola qua dove siamo in vacanza? caccaletto nella camera da letto della vacanza noi siamo a Baia dei Dei in una frazione di isola di Capo di Sud e niente il posto è bellissimo faccio vedere solo una parte cioè questa è la veduta della nostra stanza poi faccio vedere questa è la stanza il disordine perché ci siamo fatti la doccia io e la piccola peste quindi niente ci siamo preparati io sono a pochissimo trucco ti doi prendi tu mi devo abbassare? ciao ciao ti piace questo posto? si è bellissimo? ciao ciao dici ciao sono al mare mare a patata city a patata city perché io avevo detto che questa è patata city come quella di Peppa è patata city come quella di Peppa però patata city del mare e noi siamo andate al mare oggi siamo anche usciti io ho fatto anche shopping perché oggi niente c'era vento quindi abbiamo deciso di uscire fare un po' di spesa dovevo comprare l'acqua io ho questo così e ho fatto anche shopping poi ci sarà un bel video e quindi questo è il video di presentazione che sono riuscita a fare dopo oggi è martedì dopo tipo tre giorni che siamo qui ma io sono diventata nerissima nonostante la mia protezione 50 ho pochissimo trucco perché ho mal di testa niente questa è la tutina della Zaful che voi avete visto che ho fatto un servizio fotografico oddio mi è uscito un super brufolo per via del sudore uno qui uno qui e quindi questo il posto è bellissimo cioè tipo io rimarrei qua a vivere per sempre allora nei prossimi giorni faccio qualche video oggi non ho potuto uno avevo il cellulare in camera a caricare due c'era un vento omicidiale quindi non si vedeva niente ma qui il mare è bellissimo è stupendo c'è un castello aragonese fantastico poi quando ci vado ovviamente faccio la ripresa niente Anna sta giocando a pallone nella stanza e quindi poi voglio fare tutti collegare tutti i pezzi di questi video fare un unico video e postarlo su youtube se ci riesco se si vede bene intanto questa è quella presentazione poi me la metto comunque su facebook così vedete sto cercando un po' di luce per farvi vedere ok penso che voi avete visto tutte le fotine che vi stavo pubblicando su instagram e sulla pagina gli outfit serali tutte le cose e quindi niente un bacio dalla nostra vacanza un bacio da Baya de Gidean saluta ciao 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 già presto al presto ciao allora vi avevo parlato nella stanza si amore abbiamo preso le bolle di sapone niente lei sta ringraziando allora vi ho fatto vedere nella stanza ho fatto il video nella stanza mentre tu stavi facendo la doccia e vi ho fatto vedere la veduta vi faccio vedere le mie scarpe super fighe perché queste scarpe meritano sono super fighissime sono pure comode per essere anzi e niente stiamo andando a cena c'è un vento allucinante però il poster fighissimissimissimo io spero che si veda tutto che vuoi fare un bel giro su cioè mettendo su YouTube perché mi piace questo posto questa isola e Baia degli Dei merita tu sto la scelta io la scelta lui tu sai diciamo il posto bene perché ho detto una proazione di Caporizzuto come si chiama? le castella le castella le castella di Caporizzuto di Caporizzuto come vi avevo detto già prima di Grotone dobbiamo mettere la giacca ando perché c'è il vento stasera è ventoso come lo era oggi però il posto è figo allora ci sentiamo prossimamente che facciamo vedere poi tutto il villaggio tutto quanto domani con calma ciao mettetela grazie Grazie. Facete lì? Sì, un attimo. Buonasera. Ultima sera. Qui alla sbaglia degli dei. Ci stiamo preparando per andare a cena. E' devastato tutto il caos. E mi sono statica benissimo. Ma che vado bene. Perché sto facendo il co-wash. Quindi iniziano ad andare un po' meglio. Allora, mi sono blozzata. Sono diventata super nerissimissima. Quindi domani partiamo. Guardiamo la cittura. Ok. Perché a gente è come un... finita per non sentirmi. Allora, domani ci parte. Lasciamo la Puglia. E ci dirigiamo in Campania. Per seconda tappa del nostro tour estivo. mi dispiace lasciare la Puglia, ho detto la Calabria. Mi dispiace lasciare questa terra perché mi piace tantissimo. Il villaggio è bellissimo. Il mare è bellissimo. e quindi mi dispiace un po' lasciare questa terra. sono stati poco una settimana. Però, giusto così. E poi niente. E poi il viaggio si sposta in Campania. vacanza 2 è la vendetta. E quindi poi ovviamente ci sarà l'aggiornamento per farvi vedere il mare Campano. un bacio a tutti i miei contemplati, perché sono messo a Sicilia la metà campana. e quindi niente, un bacio a tutti i calabresi perché ci hanno trattato benissimo anche fuori dal villaggio. Non tanto nel villaggio, ma non i calabresi. le persone all'interno del villaggio non sono state molto carine. Però, all'estate del villaggio, i calabresi, perché siamo andate prespesse a rimangare, io poi ho fatto qualche spesa al minuto, perché siamo più venuti. Ci hanno trattato benissimo, sono fesurati, carinissimi, quindi veramente ospitali. Quindi un bacio ai calabresi. E ovviamente poi ci sarà il video della seconda tappa della nostra vacanza. Un bacio. Noi andiamo a cena che sono le 8 di sera. E quindi questa è l'ultima serata. Quinto, mi portatevi via, andatevi. E niente, spero che in tutti questi video vi piaccia e poi faccio un super con lunch e lo mettiamo su Youtube. Un bacione e a presto. Ciao ragazzi! Ciao!